Senatrice Erika Stefani, grande soddisfazione per la Lega Nord perché gli stalker rimarranno in carcere quando prima il governo aveva pensato diversamente. Questa è una cosa abbastanza sorprendente. Noi della Lega Nord abbiamo fatto una grande battaglia contro questo provvedimento che troviamo veramente indecoroso e indegno. E adesso si capiscono quali sono le conseguenze. Noi abbiamo subito votato contro tutto il provvedimento, nonché in particolare a quell'emendamento che è stato introdotto ed è stato approvato in aula, a maggioranza quindi che tutti devono rendersi conto di cosa hanno votato. Noi ci siamo opposti, abbiamo detto che innalzare questo limite comportava eliminare la custodia cutelare per moltissimi reati, fra cui questo. Un reato importante, adesso se ne parla anche tanto di questo, però vi sono sicuramente anche delle altre ipotesi molto gravi. Noi ci siamo opposti subito, abbiamo evidenziato. Non è una questione solo meramente politica, questo è veramente un problema della sicurezza del Paese. Questi provvedimenti, che vogliono soltanto adottare dei provvedimenti tampone per il problema del sovraffollamento delle carceri, vanno poi a creare dei problemi veri sulle spalle della gente, sulla gente onesta. Soprattutto gli stalker che in questi giorni purtroppo fanno ancora notizia. Fanno ancora notizia, è un reato grave, è un reato che adesso un po' se ne parla anche di più, però ripeto, non è solo lo stalking. Vi sono anche altre ipotesi di reato, sono importanti e ci deve rendere conto che effettivamente cercare di eliminare un problema, di risolvere un problema come quello delle carceri, semplicemente liberando i criminali, è solo un modo per ledere proprio un diritto di tutti i cittadini ad avere la sicurezza.